Musica Ecco, un grande piacere è che ricevo il premio per la musica intitolato ad una persona speciale, Gustavo Roll. Ringrazio Loretana Roberti, Pasquale Sorabella e la Commissione che mi hanno voluto conferire questo riconoscimento alla catiera. E auguro alla manifestazione un grande successo ed un felice prosieguo per gli anni futuri. Ciao! Radio Montecarlo, the radio icon. Ciao a tutti, sono Lisella Berrino di Radio Montecarlo e ho un appuntamento con voi anche se non lo sapete ancora. Vi informo adesso. Dunque, è per il 20 di giugno a San Secondo di Pinerolo per la prima edizione di un premio. Un premio dedicato a Gustavo Adolfo Roll. Un uomo straordinario che è riuscito a far parlare di sé il mondo intero. Ma è davvero straordinario. È per quello che desidero che non manchiate. Vi aspetto. Ciao! Ciao a tutti, mi nome è Luis Fernandes de Rive. Tengo 74 anni di edad e comencé nel cine a los 13 anni. Per lo che llevo in questo mondo sei 61 anni delante delle le cameras del cine. Rimari a Turin, San Secondo, per inserire a Gustavo Roll. È un vero appuntamento per me. Me encanta Rol e tutto lo che ha fatto mi fascina Non poteva faltare al premio Gustavo Rol Molte grazie al giurato e alla organizzazione per questo premio otorgato a mia carriera cinematografica che inizia con il film mondialmente famoso Il buono, il feo e il malo dove mi rol era di soldato casaca Recibo il premio Entre lágrimas di admirazione e deseando agradecer a tutti i assistenti a questo acto Molte grazie e quando termine la cerimonia brinden conmigo con un vaso di vino prosecco o birra peroni Grazie, grazie, grazie mille fratellino a tutti Ciao, ciao San secondo di Pinerolo, appunto vicino Torino sono emozionato di questa cosa perché veramente con i miei sacrifici la mia dedizione, la mia perseveranza hanno portato appunto a poter prendere questo importante e prestigioso premio Mi voglio troppo bene, quindi seguitemi ne vedrete delle belle E cosa dirvi? Ve lo faccio dire anche da Massimo Bolli Beggia che dolore! Eddi Melotti prenderà il premio a San secondo di Pinerolo Gustavo Rol Gustavo Rol Che dirvi? Vi voglio bene Ciao, sono Giulia Lea Giorgi e il 20 giugno presenterò insieme a Roberto Ardizione la prima edizione del premio Gustavo Rol a San secondo di Pinerolo Gustavo Rol, un personaggio importantissimo conosciuto in tutto il mondo lo ricorderemo insieme a esponenti del mondo della letteratura della cultura e dello spettacolo ci sarà anche un grande show di intrattenimento vi aspettiamo San secondo di Pinerolo il 20 giugno Sunt onorata să reprezint Federația FAMS România Federația creditata de Parlamentul European și Parlamentul României la evenimentul internațional Premiile Adolfo Rol Este o mare oportunitate pentru mine de a cunoaște personalități din lumea televiziunii, cinematografiei, a muzicii și a artei Umberto Schipione Roberto Adrizione Giulia Giorgi Mulțumesc, doamnelor, Dana Roberti și domnului Pascoale Sorabella pentru invitație și încredere Sper ca interpretarea mea unui vals intrat în patrimoniu UNESCO să fie la înălțimea evenimentului Abăște 12 ceni Ciao a tutti Mi chiamo Maria Saffia Corona Ho 11 ani E la mia passione più grande E la musica Cantare mi rende felicissima Con immenso onore Ringrazio Pascoale Sorabella Lore Dana Roberti La commissione E tutta l'organizzazione De l'importantissimo evento Internazionale Gustavo Aroll Con rinnovata stima Avră l'onore Di conoscere Umberto Schipione E tante altre personalită Di spicco Dell'arte E della cultura Nazionale e internazionale Ringrazio di nuovo Per il riconoscimento E non vedo l'ora Di partecipare all'evento Un bacione Mua Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valesca Y les saludo Desde la bellissima ciudad De Barcelona Quiero agradecer Por medio de este espacio A Pascoale Sorabella Y a todo su maravilloso equipo Ya que este 20 de junio Le voy a presentar Con mis canciones Y actuando En el mando evento De la entrega De premios Gustavo Aroll En la maravillosa y hermosa ciudad De Turín Quiero agradecer también A los medios de comunicación De radio De televisión Y de prensa Que estarán presentes Tanto de Italia De Rumanía De Suiza A nivel nacional Y a nivel local Pues me siento muy complacido En estar en vuestra bella ciudad Y por supuesto En homenaje A Gustavo Aroll En estos premios Muchísimas gracias Y nos vemos muy pronto En vuestro maravilloso país Les envío Un gran abrazo Y molto base A tutta la persona maravillosa De la bellissima De Valencia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video